All'Italia è il disco che celebra il ritorno del cantautore Massimo Priviero, un album che racconta e omaggia le storie di italiani di ieri e di oggi e racconta di rinnovamento, di rinascita e di forza. In questo disco Priviero fotografa delle storie a partire dal Novecento fino ai giorni nostri e lo fa come un vero e proprio storyteller. Segnatevi l'appuntamento per il 15 ottobre all'Alcatrazia di Milano dove si esibirà live e intanto questa è l'intervista di Leonardo Foglieri. In realtà l'idea di un album acustico è un'idea che mi porto dietro da qualche anno e che un po' alla volta è andata prendendo corpo. Dopodiché ho cominciato a scrivere un paio di canzoni durante la pausa del tour che stavamo facendo per l'album precedente e sono uscite delle canzoni che mi accorgevo che avevano un unico fuoco, un unico tema. Andando avanti mi sono accorto che avevo proprio questo desiderio di scrivere, di mettere a fuoco questo tipo di viaggio e soprattutto di farlo cadenzandolo storicamente. Quindi parlando di migrazione italiana, ha detto in generale, ma partendo da ieri, partendo da cento anni fa in questo caso, arrivando ad oggi. Chiaro che è un tema molto forte, è un tema molto sentito, che viviamo anche di riflesso rispetto alla gente che arriva da noi, ma questo voleva essere un disco sugli italiani, su quella parte di italiani che con molta forza e con molto coraggio è andato, è partito e parte ancora oggi. Perché credo che alla fine l'atto di muoversi, la migrazione tra virgolette è un atto comunque di forza, è un atto di coraggio, è un atto di determinazione. Il cambiamento in sé, anche se è dovuto alla costruzione, a volte alla disperazione, è comunque un atto di coraggio, è un atto di forza che va apprezzato, che va amato e che va sostenuto. Allora, durante l'uscita di questo album, al di là delle cose promozionali che si possono fare per raccontarsi, per dare visibilità a questo nuovo disco, abbiamo avuto questa idea di farci un giro, di fare un giro, ho avuto, principalmente perché sono io poi che ci vado, questa idea di andare nei negozi di dischi indipendenti, rimasti, quindi non negli angoli di centri commerciali, che non sono negozi di dischi, sono angoli dove c'è tutto, no? Ma questi negozi di dischi rimasti sono stati, e che sono stati spesso dei centri di cultura, dei centri di scambio, dei centri di condivisione, di scambio umano, oltre che di ricerca di un album magari particolare, o quello dell'album che non è il primo nelle classifiche, si trova dappertutto, no? E quindi questo storicamente aveva generato qualcosa che ne ha molto di più dell'amore per la musica. E abbiamo deciso di fare questa cosa, che abbiamo chiamato Salvate il suo dato disco, per cui io sto facendo un pochino un giro di negozi di dischi, dove incontriamo ovviamente, incontro la gente, dove suono, dove racconto l'album, dove si rinnova questo tipo di scambio, questo tipo di condivisione, condivisione in cui io credo molto. Sta piacendo molto, devo dire, perché ne abbiamo messi giù una decina di appuntamenti, abbiamo una richiesta per almeno altrettanti, e purtroppo non ci sono rimasti molti, molti negozi di dischi in Italia propriamente detti. Io sono convinto però che quelli che ci sono, e che magari tengono botte in qualche modo, sono destinati a restare, perché c'è qualcosa di speciale, e quindi mi invito, se volete, ai ragazzi, alla gente in generale, che cerca magari di preparare un disco, un cd, un vinile, e poi ne fa l'uso che crede, che preferisci, è quello di cercare molto di più questo tipo di negozi, che tirano sul disco, ma appunto in un angolo di centro commerciale, io per carità non ho niente, contro i grandi centri commerciali, è il mondo in cui viviamo, ma significa andare in questi negozi, dare una mano a chi tiene aperti questi posti, e magari avere uno scambio, anche uno scambio umano, magari chiedere dei consigli, magari decidere che vale la pena di approfondire qualcosa, che è anche cultura, e quindi non è semplicemente che sono qualcosa che sento alla radio, che funziona di più, o che vedo di più in televisione, la musica non è solo questo, anzi, quella parte lì è quella meno importante. Sì, torniamo ad Alcatrazia Milano, Alcatrazia Milano e speriamo di fare tutta la marea di gente che c'era l'altra volta, noi l'abbiamo registrato, l'ultimo album live che è uscito appunto un anno e mezzo fa, è stato registrato anche a Milano, all'Alcatraz, proprio perché c'è anche un'acustica molto buona per registrare, e quindi torniamo lì per poi partire con tutta una serie di appuntamenti che andremo a fissare successivamente. Speriamo di accogliere, di abbracciare tutta la gente che verrà, il concerto sarà molto particolare, perché avrà un inizio acustico molto legato al nuovo album, e poi diventerà, ci sarà una seconda parte ovviamente, molto elettrica, tra virgolette molto rock, è molto da assalto all'arma bianca, diciamo così, quindi credo che sarà una cosa particolare, io spero che si crei quella cosa che di solito succede ai concerti che facciamo, c'è uno scambio di forza, di emotività, molto bello, molto importante, molto di energia positiva, quindi l'invito a chi ci ascolta di essere insieme a noi il 15 ottobre, tanto c'è il derby Milan-Inter, ma San Siro è sold out, quindi cerchiamo di fare sold out di qua, che è molto meglio.